Il risotto al contrario, porcini e cicoria. Vi faccio vedere come lo preparo. Prendiamo il porcino, quindi lo useremo in due modi. La parte più pregiata, più saporita del cappello, la tagliamo a fettine sottili. Mentre invece con il gambo andiamo a fare questa crema. Cicoria pan di zucchero. Le foglie esterne le abbiamo utilizzate per fare questa crema di cicoria. Invece le foglie più morbide e centrali non le voglio far cuocere perché voglio far sentire il sapore naturale. Andiamo a tagliarle a julienne. Il risotto parte in modo molto semplice. Solo un po' di olio a scaldare. Aggiungo un carnaroli invecchiato. Facciamo tostare per qualche istante e non vado a bagnare con il vino bianco. Non faccio soffritti perché tutto il sapore lo voglio riportare poi alla fine in modo molto definito e delicato. Dopo un minuto circa di tostatura bagniamo direttamente con un brodo vegetale. Iniziamo la nostra cottura del riso. Prepariamo la base del piatto. Bocconcini di crema di funghi porcini. Crema di cicoria pan di zucchero. La parte cruda, quella più naturale, appoggiata sulla parte cotta. Il nostro risotto è pronto. Aggiungiamo dei fiocchetti di burro. Il grana padrano grattugiato. Un goccio di garum. Andiamo a mantecare. Questa operazione la facciamo davanti al cliente. Il riso viene messo sopra. Se avessi messo all'interno in mantecatura avrei perso ogni sfumatura di profumi e di sapori. Risotto al contrario ai funghi porcini e cicoria. Raccogliendo con il cucchiaio dal basso verso l'altro avete sempre una sensazione di gusto diversa.